E' meglio vivere e crescere nella provincia o nella grande metropoli? Adolescenti che vogliono scappare dalla piccola realtà oppure persone un po' più grandi, stufi della metropoli? Dov'è la verità? Secondo me è un po' nel mezzo. L'importante è riuscire a crearsi un ambiente piacevole per stare sereno, poi il luogo è un dettaglio. Certo, in alcuni casi fa la differenza, però l'importante è sfruttare, secondo me, le cose positive di un posto, che sia un paese di provincia o che sia la grande metropoli. Secondo voi? Emilia dice forse la provincia è più tranquilla. Dovremmo chiederlo a qualche diciottenne, che però a quest'ora non credo siano connessi. Emanuele, provincia tutta la vita, itri per sempre. Monica, la mia Verona è magica, piena di storia e meraviglie. Hai ragione. Già ci sono diverse opinioni. E' soggettivo, è talmente soggettivo che non c'è una verità, cioè non c'è un dove si sta meglio. Secondo me non esiste, bisogna riuscire a stare bene dentro. Va bene, non mi fate fare filosofa prima mattina, ragazzi, che sono ancora le 6.40. Va bene, io vi saluto. E' stato come sempre un piacere, ci vediamo domani sempre 6.30 puntuali. Non si sa da dove, vediamo da qualche parte vi fermerò. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao a tutti.